Allora, gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero, Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Il volto di Cristo dipinto dall'otto è il volto di un uomo in silenzio. La sua comunicazione si fa non verbale, con il gesto della mano destra come a voler fermare la folla inferocita che chiede giustizia per il peccato commesso dalla donna. Lei, posta a sinistra del dipinto, guardata e additata da tutti, non incontra il volto del Signore, tiene lo sguardo basso in segno di pentimento. Le mani di Cristo si contrappongono a quelle della folla, giudicanti e accusatorie. Sono le mani che indicano con la posizione del pollice, dell'indice e del medio, l'entità trina cui sola aspetta il giudizio morale. Cristo è fermo, nell'istante prima di chinarsi a terra e scrivere parole incomprensibili fino a quando dirà, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. La figura della donna è esaltata dalla luce, tipico tratto lottesco, a sottolineare più che la sua evidente bellezza esteriore, quella interiore di donna vera, reale, che chiede perdono. I suoi capelli sono strattonati da un soldato e il suo viso è chino con una smorfia di dolore e di umiliazione. Il quadro rappresenta la brutalità dell'umanità che si arroga il diritto di giudicare senza prima aver guardato a se stessa, senza prima aver messo in discussione il proprio vissuto. La donna, cinta di abiti arricchiti di una spilla sulla spalla e con una fila di perle che scende dal capo, consapevole del suo errore, non cerca gli occhi di Cristo. Cristo sembra immerso in una dimensione estranea a quella umana, non guarda nessuno, mentre gli uomini arrabbiati lo fissano, imprecando e cercando vendetta. Cristo guarda oltre, e quello sguardo oltre la povertà di quella donna indica la sua misericordia e il suo perdono per tutti. Di questo dipinto esiste una seconda versione nel Museo dell'Uvra a Parigi, ma mentre nel quadro loretano è stata di recente scoperta la firma di Lotto, in quello parigino di essa non sembra esserci traccia.